Passiamo all'interrogazione numero 3, 2541 degli onorevoli Dozzo ed altri concernente elementi ed iniziative in relazione ai problemi occupazionali presso il gruppo Monte dei Paschi di Siena. L'onorevole Fava ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Grazie, Ministro Fornero, della sua presenza. Io sono, devo dire, che sono anche particolarmente grato della presenza oggi della Presidente Bindi, che credo che nessuno meglio di lei in quest'Aula conosca bene quante siano le responsabilità di una certa parte politica rispetto alla vicenda che si è creata in quel di Siena, intorno a Monte Paschi, ma non solo a Siena. Noi stiamo parlando di una delle peggiori pagine di lottizzazione politica nel mondo della finanza e nel mondo del credito che si siano mai potute registrare negli ultimi 30 anni in questo Paese. è una delle pagine più nere che oggi comincia a dare delle conseguenze negative non più e non solo sul versante del mercato classico del credito, cioè non più e non solo nei confronti dei correntisti, degli azionisti, dei soggetti che in tutti questi anni hanno avuto interesse e che hanno fatto quotare i propri interessi legittimi intorno a questa banca, ma che cominciano ad avere delle conseguenze anche dal punto di vista dell'impatto sui laboratori. Noi stiamo parlando di una vicenda che riguarda 4.600 laboratori, prevalentemente concentrati nelle regioni del Nord, e che rischiano il posto di lavoro, in virtù di un piano industriale che non c'è ancora detto esattamente quali conto. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Saffornero ha facoltà di rispondere. Grazie. Io devo dire che rispondo a questa interrogazione, peraltro da una prospettiva che è quella che riguarda non tanto le vicende della banca in quanto tale, sulle quali io non ho informazioni che mi potrebbero consentire di dare una risposta adeguata, ma invece rispondo dal punto di vista delle vicende, forse anche più cariche di sofferenza umana, che riguardano il lavoro e quindi l'occupazione presso Montepaschi. Devo anche dire che a oggi non è stato richiesto alcun intervento del Ministero e non è stato neanche richiesto l'apertura di un tavolo. So che trattandosi di settore bancario c'è la possibilità di usare fondi per gli esuberi, so che ci sono ipotesi sulle quali io credo il Montepaschi sta lavorando intensamente, anche in termini di solidarietà espansiva. Devo dire che il Ministero segue molto da vicino la vicenda, però al momento il Ministero non ha avuto alcuna richiesta diretta da parte del Montepaschi, quindi al di là di questa vigilanza attenta, io non credo che noi possiamo fare ora. Grazie. Ministro, a facoltà di replicare l'onorevole Farno. Devo dire che la risposta che mi ha dato il Ministro aggrava ulteriormente la questione. Cioè che si debba attendere che arrivi una richiesta dal Montepaschi per risolvere il problema di 4.600 esuberi, o cosiddetti tali, dei quali 2.300 rischiaranno a breve i posti di lavoro. Potevano diventare anche 1.600, poi in realtà, se alla fine la politica che ha generato questo disastro, cioè il Partito Democratico, decidesse di salvare Siena, visto che a Siena ci sono le elezioni. Ma in assenza di questo scenario, in ogni caso, io credo che sia un suo dovere convocare Montepaschi di Siena, quanto prima, per capire quali siano le intenzioni reali, per capire quali siano i livelli ricaduti occupazionali, perché stiamo parlando di un mucchio di persone che domani si potevano rischiare di trovarsi in strada in virtù di un meccanismo di cosiddetta esternalizzazione e che potrebbero trovarsi per strada magari in età e in condizioni di non poter trovare un altro lavoro, perché oggi un 40-50enne che per tutta la vita ha lavorato nel back office di una banca non è facilmente riempiegabile da altre parti in un momento come questo. Quindi io credo, al contrario, rispetto a quanto lei ci ha detto, che sia dovere vostro convocare Montepaschi di aprire voi un tavolo a prescindere dal fatto che loro richiedono meno e a prescindere dal fatto che Montepaschi intenda a porre in essere, in qualsiasi momento lo potrebbe fare, i meccanismi di solidarietà che ne sono propri ma che discendono la scelta autonoma e indipendente dell'istituto stesso. Allora lungi da noi l'idea di entrare nelle dinamiche di un'azienda che tende a ristrutturarsi, ci mancherebbe altro, c'è pieno di aziende di questo tipo. Però io vorrei ricordare che Montepaschi in determinati territori, in particolare a quelli da cui io provengo, io vengo dalla provincia di Mantua, la banca agricola Mantovana ha subito anni fa, nel 2008, io andai in assemblea a dire che stavamo rischiando grosso, ha svenduto di fatto il proprio patrimonio in virtù di una dinamica aziendale scellerata che ha portato i vertici di Montepaschi a fare un'operazione che era assolutamente contraria a qualsiasi logica di mercato e che ha portato, pare, lo dica anche qualche magistrato in questi giorni, a far sì che si pagasse la partecipazione in banca Anton Benita due, forse tre volte in più di quello che era il valore realmente stabilito dai mercati normali. Allora, in una situazione di questo tipo, io mi chiedo, se non si muove il governo, qui dobbiamo aspettare che si muova? Grazie, onorevole Fava. Non posso non precisare, onorevole Fava, che ogni riferimento alle origini senesi, all'appartenenza politica del Presidente di turno è del tutto improprio in questa sede.